Siracusa, truffa aggravata, multe fittizie e costi gonfiati. Nei guai due titolari di autonoleggio denunciati. Multe inesistenti o non pagate e costi gonfiati di danni alle vetture. Era il meccanismo di una presunta truffa a stranieri attivata da un'agenzia di noleggio auto di Siracusa con sede anche nell'aeroporto di Catania. E la contestazione della procura del capologo Reduseo mossa ai due soci e al responsabile amministrativo dell'azienda che sono stati denunciati per falsità materiale e truffa aggravata. Al centro dell'inchiesta le indagini della polizia locale di Catania avviate dopo la denuncia nel marzo del 2020 di due turisti polacchi e della debito da parte dell'autonoleggio per violazione al codice della strada mai commesse. In realtà i due verbali apparentemente emessi dalla stessa polizia locale sono risultati di essere stati falsificati ad arte. L'inchiesta che si è avvalsa anche della collaborazione della polizia postale di Siracusa ha evidenziato che dal 2018 al 2019 la società a fronte di 10.000 euro di spese di riparazione auto avrebbe trattenuto dalle carte di credito dei clienti circa 150.000 euro. Il guadagno della presunta truffa, contesta l'accusa, sarebbe stato ripartito tra soci e dipendenti. Gli investigatori hanno scoperto anche casi in cui il cliente era stato costretto a pagare le multe vere. La prima all'autonoleggio che tratteneva i soldi limitandosi a segnalare il nome del trasgressore e poi quando arrivava il secondo verbale. Con questa tecnica, contesta la procura di Siracusa, la società avrebbe incassato circa 15.000 euro.